Benvenuti all'autodromo di Modena, quarta prova dei trofei nazionali Malossi, terza La prova conclusiva del Girone Nord per quanto riguarda Super Scooter e Scootermatic, replica è la Scootermatic Gira molto appottonato sul cordolo, lascia molto spazio, infatti vediamo Bona che prova L'attacco all'esterno riesce in questo momento, proprio nell'ultima curva, si porta in seconda posizione il campione della Super Scooter Vittoria in solitario per Davide Morselli E intanto sono pronti, si spegne il semaforo in questo momento ed è partito a razzo Matteo Guidi dalla seconda casella Borselli si mette immediatamente avanti Davide Intanto vediamo c'è un lungo, in questo momento sembra di Bona Si è di Bona che è uscito dal Cavatappi un po' largo Ultimi metri, Rondina, una sbavatura di Guidi di Bona all'esterno In terza posizione Borselli eccolo qui, si tira su, va in quasi super, facendo il gesto di violinista Grande gara per lui, volata per la seconda piazza con Rondina, di Bona e Guidi Tutto bene, e niente cosa dire, sembra un sogno ad occhi aperti Sono partito, è andato tutto bene, il motorino è andato bene, la mia pista di casa finalmente Una vittoria che mi ha tirato su un bel po' il morale Ringrazio tutti quelli che mi hanno seguito, i miei amici che ci credono sempre in me Miglioli che mi prepara il motore, la mia ragazza che mi sostiene sempre e mi segue alle gare Finalmente ho una soddisfazione dopo tutta questa sfortuna Grazie a tutti Grazie a tutti